Di Bianca Chiriatti sabato 26 maggio 2018 Guglielmo Scilla, Will Wash, YouTuber e iscrittore, ed ex concorrente di Pechino Express in Coppia con l'amica Alice Venturi, ha dichiarato qualche mese fa, con un video su YouTube, di essere omosessuale Ma mentre fino a poco tempo fa era single, ora pare aver trovato l'amore, e sembra anche essere uscito fuori il nome del suo fidanzato Ieri Scilla ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, in cui vengono mostrate due mani maschili che si stringono Entrambi i ragazzi indossano un orologio in cui è raffigurato Topolino, e la didascalia? Cita, Mickey Mickey, in riferimento al nome americano del cartone animato Qualche ora dopo il tam tam sui social ha rivelato anche il nome del possibile fidanzato di Scilla, si tratterebbe Di Luigi Di Lella, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la stessa foto con la stessa didascalia? Non ci sono conferme ufficiali, ma gli indizi sembrano parlare chiaro Vota l'articolo, nessun voto Potresti essere tu il primo, i video del canale Don